Babbo Natale in piscina. Anche quest'anno la piscina di Campagnano a Cosenza ha ospitato una giornata nel segno del Natale della condivisione. Organizzata dal COGEIS, il Consorzio di Gestione degli Impianti Sportivi, obiettivo della manifestazione Babbo Natale in piscina è stato quello di regalare a tutti coloro che praticano gli sport acquatici un'intera giornata all'insegna del divertimento fondendo l'amore per lo sport con il clima e l'atmosfera del periodo più suggestivo dell'anno, il Natale. La vasca è stata invasa da centinaia di atleti ma anche da semplici appassionati che si sono confrontati non solo in gare di nuoto ma anche di tuffi in sedute di idrobike e di ginnastica acquatica. Una giornata di sport molto intensa dunque che alla fine ha portato doni per tutti. Una grandissima giornata all'insegno dello sport. Vedete una tribuna piena con i genitori che stanno accogliendo le gare di questi bambini che a dire il vero è un mese che si preparano insieme agli istruttori per fare una gran bella figura così come stanno facendo. È un momento di aggregazione, lo dovevamo ai nostri ragazzi, lo dovevamo ai genitori che ogni giorno portano i loro figli sperando in un percorso di crescita sportivo e di vita. Ci stiamo divertendo anche noi. Siamo giunti alla ventesima edizione e questo per noi è motivo di grandissimo orgoglio. Fra i bambini della scuola nuoto saranno 200 piccoli atleti, 200 piccoli campioncini come andiamo a chiamarli noi. C'è stata una dimostrazione di acqua gym, c'è stata la dimostrazione dei tuffi e poi passeremo anche più tardi alle dimostrazioni degli adulti. Abbiamo voluto coinvolgere anche gli adulti in questa gara e speriamo insomma in una gran bella giornata di sport. Fin qui è andato tutto bene. Ringraziamo tutti quanti, i genitori, i ragazzi che si stanno cimentando insieme a noi.